Amici sportivi un saluto da Fabrizio Agostini ed Emanuele Barzi benvenuti al Palameucci di Aprilia quinta giornata del campionato di serie D nel quale si affrontano i padroni di casa dell'Eagles Aprilia maglia giallonera e latina 1932 maglia granata il primo pallone sarà giocato dagli apriliani pallone che arriva vecino la respinta prima occasione del match primo angolo della partita pallone per sacchetti sacchetti e palla in rete sblocca sacchetti pallone mezzo alle gambe di Varano 1 a 0 Eagles e allora di nuovo latina con Damiani Rinaldi Rinaldi punta batte e indovina l'angolo più vicino 1 a 1 pareggio del latina 1932 vecino vecino ancora con il sinistro vecino simile al palo Pintilie si gira in un fazzoletto ma viene fermato da Bruzzese gran intervento difensivo Montalto carica il destro ancora Montalto deviazione palla in rete avanti Latina 1932 il tiro di Montalto deviato che inganna Masullo ora Pintilie appoggia vicino ancora Pintilie Pintilie Varano Pintilie ancora palla sull'esterno della rete protagonista di una grande azione batte lui il calcio d'angolo Varano poi Federov deviazione ancora calcio d'angolo Pintilie 1-2 con Federov Pintilie palo esterno di Pintilie respinta di Masullo allora prova ad andare via Pintilie Pintilie Federov prova lui col destro vecino si mette in proprio prova il tiro respinto ora va via Montalto pericolosamente Montalto palla in rete doppietta per lui e terza rete per il latina 1932 pallone messo fuori da Montalto pressato vecino dentro e la letta di Morgani 3-2 torde scia Ligols Picciotto difende palla pallone nell'area Picciotto perde palla alla fine vecino pareggia 3 pari ancora vecino Frioli si accentra Frioli sinistro e palla del 7 gran gol di Frioli e l'Igols adesso è di nuovo avanti 4-3 Montalto appoggia male c'è vecino che ruba il pallone ancora vecino pallone sulla traversa la cannonata di vecino pallone per Fulco sinistro altro legno poi l'1-2 Frioli Frioli ancora protegge palla appoggia Rabate per la porta è vuota Rabate Varano salva tutto sulla linea Vecino si accentra e trava un gran gol sotto l'incrocio allunga Ligols 5-3 Frioli gli sradica il pallone Frioli sinistro palla fuori deviata in calcio d'angolo pallone dentro tutto solo Frioli mette dentro 6-3 Frioli destro il piede di Varano Frioli abate pallone dentro Varano la respinta ancora Federov Varano due volte abate Federov il numero e poi la parata di Varano e palo è un'Igols scatenata in questo secondo tempo Damiani anticipa Masullo e colpisce la traversa pallone dentro per Sacchetti fermato da Picciotto poi vecino prova il tiro Varano la respinta due volte anche su Sacchetti pallone in verticale tutto solo Federov esce Varano poi Frioli ancora Frioli palla fuori Sacchetti, Sacchetti fermato c'è Rinaldi ancora calcio d'angolo Masullo Bruzzese contatto poi Rinaldi il destro vincente Rinaldi 6-4 Pintilie tutto regolare Pintilie Pintilie mette il punto esclamativo sulla sfida vecino prova a controllare il match che termina qui vince l'Igols Aprilia 7-4 su Latina 1932 da Fabrizio Agostini ed Emanuele Barzi è tutto a risentirci al prossimo appuntamento